Io avevo una mia idea con la politica, avvocato. Che idea avevo, Ferro? Io avevo una mia idea. Che idea avevo, Ferro? Quando successe la questione di Firenze, ti era parlato di nuovo di mettere il boom a Bologna. E ne parlò a Bagarello e disse abbiamo bisogno di un appoggio a Bologna. Io avevo un fratello di mio cognato a Bologna, un contadino, che dissi ci può essere da poco. Ma io sta cosa... E basta con sto maranzano! Ma io sta cosa... Quando ci sono delle cose nella mafia, ora non lo pensa, la mattina. Chi tu che può sapere? Ci dissi, vedi che io sta cosa non lavio. Perché fino a che noci, ammazziamo i magistrati, i carabinieri, i poliziotti. E' una cosa. E li ammazzano a noi con il castro. E' un discorso che lo gestiamo. Ma quando succedono queste cose, che morono gente civile, non lo può vedere ma con Cristo. Non ne può vivere più ma con il Padre Eterno. Ne può vivere più. Io non la vivo sta cosa. Io vedo un altro tipo di discorso. E siccome noi siamo a mare con sto discorso, con questi quattro sdisonesti e dimentetti, come vanno a fare? Ora c'è magari quest'altro, che è un genere. Eppure Chido, la barbara. Noi dobbiamo fare una cosa. Siccome c'è la legge Cozzini, facendo un giusto comportamento ai carcerati, noi sta politica la facevamo. Di fare cinque anni, avevi dieci anni che la nostra gente è su un galera. Noi dobbiamo fare una cosa. Tutti sti partiti politici, ai segretari di partito, ci ammazzano i soldi, noi altri. Ci ammazzano i soldi, ci ammazzano i servizi nella Sicilia. I soldi non li picchiamo dagli appalti. Ammazzano a pigliare la segreteria di partito e ci ammazzano a dire «Ca!» Lassamo gli stari magistrati. E ora e poi, non ammazzano chi? Cominciamo a fare fino, fino, d'esta maniera. Di soldi, di lavoro, di sta maniera. Aiutiamo le famiglie dei carcerati. E poi con la legge Cozzini le tiriamo fuori dalle calere. Poi vanno i picciotti, a scuola. Siamo a fare pari i magistrati, i dottura. Tentiamo di entrare nello Stato. Avvocato, chi sta la politica vecchia? Chi d'ampina? E c'era pure Matteo Messina Denaro quando dissi sta cosa. Ci dissi «Vedi che io sta cosa non la vi!» Io vi ho sta cosa perché Piedispo con nevi. non mi interessava a mia di Firenze, niente mi interessava. Vi metterei il boom. E la cosa vi si fermò. Poi ne parlavo ancora con Matteo di sta cosa. Penso che Ildo ne avesse parlato con suo padre. e disse «Super, sa cosa penso?» «E' la viria sta cosa!» «Avvocato, io sta cosa la viria!» «La politica così!» «Va via!» «Lo vedi, Paolo?» Lo sanno benissimo che le cose sono cambiate ma stanno a guardare. Tu lo sai che io non ho mai cercato esclusivamente le responsabilità politiche ma oggi la situazione è fin troppo evidente. i magistrati e i poliziotti lo sanno chi sono i mafiosi ma il loro potere non viene contrastato perché anche se ne arrestano 20 ce ne sono magari altri 20 parenti dei brevi che ottengono la protezione dello Stato perché la politica ha ancora bisogno di cosa nostra per ottenere il consenso elettorale siccome è uno strumento facile non ne vuole fare a meno. Basta pensare che i mafiosi hanno esteso l'uso delle estorsioni facendo pagare anche le attività più modeste. E' chiaro che il ritorno economico è minimo ma il conciolo del territorio è massimo. E acci avverso questo è possibile ottenere un accertanto camillare conciolo del momento elettorale quindi la politica ha bisogno della mafia per vincere le elezioni. E' un circolo vizioso.